Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Stasera torniamo a parlare di Partito Democratico, lo facciamo declinandolo però sui territori visto che poi questa ipotesi di scissione, se ancora si può chiamare scissione, qualcuno l'ha ridefinita fuoriuscita di qualcuno, ma insomma come comunque la vogliate chiamare questo scombussolamento all'interno del Partito Democratico può o potrebbe avere delle ripercussioni sui territori. Vedremo quindi, cercheremo di capire questo anche perché proprio la nostra Toscana in qualche modo è protagonista di quello che sta avvenendo dal Partito Democratico con il governatore Enrico Rossi. Ci ne parliamo con Marco Pierini del Partito Democratico in Montesperto, le buonasera. Buonasera. Grazie. E buonasera anche a Giulia Fossi, vice sindaco di Comano. Buonasera. Allora, due visioni diverse del Partito Democratico, ma in questo momento partiamo dal punto di vista nazionale. Che cosa sta avvenendo? Lo chiedo un po' a entrambi, ma vuole partire da Giulia Fossi. Il fatto che Emiliano sostanzialmente abbia deciso di rimanere all'interno del Partito Democratico per lei è stata una buona notizia oppure no? In parte sì, lo è stata. Ovviamente è stato tutto molto veloce perché al momento dell'Assemblea sembrava già deciso che comunque il patto con Speranza e Rossi lo portasse fuori dal Partito Democratico. Credo che l'intervento ieri di Emiliano comunque nel merito sia condivisibile. Ovviamente ha stretto molto i tempi anche sulla propria candidatura alla segreteria, ma credo sia assolutamente condivisibile provare a fare un ultimo tentativo per cercare di rendere, per non abbandonare il progetto del Partito Democratico, così come l'hanno conosciuto i fondatori, fra cui mi ci metto anch'io, e per farsi appunto che davvero il Partito Democratico rimanga il Partito Democratico, non si trasformi nel Partito di Renzi e quindi rimanga contendibile. Poi ovviamente tutto sta a vedere come si procederà nei prossimi giorni durante la fase congressuale, quindi insomma i prossimi giorni ci diranno poi davvero come questo congresso verrà impostato, anche se ovviamente la presenza della minoranza in un numero veramente scarsa all'interno della commissione di garanzia, in qualche modo il fatto di non aver accolto le proposte che sono di hupperlo anche nell'ultima direzione relativamente ai tempi dello svolgimento del congresso, in qualche modo dimostrano un'ulteriore chiusura. È un ulteriore schiaffo alla minoranza sostanzialmente questa? No, no, non è un ulteriore schiaffo alla minoranza, allora secondo me è bene partire dall'inizio, e cioè che tutto questo naturalmente nasce dopo il referendum del 4 dicembre, e io francamente sono rimasto posso dire molto deluso da quello che è stato il dibattito del PD nell'ultimo periodo, soprattutto in relazione alla forte polemica che è nata da Rossi, da Speranza e in parte anche da Emiliano, poi rientrata, uscita e rientrata nelle ultime 72 ore. Adesso il PD si deve trovare ad affrontare una fase congressuale in cui però finalmente parla dei problemi del Paese e smette di parlare di se stesso. È naturale che questo impone sia per le amministrative sia per la stagione estiva una stretta sui tempi, una stretta sui tempi che però permetta comunque di fare un congresso diciamo in condizioni normali. Sono molto contrariato quando sento alcuni esponenti della minoranza in uscita attualmente sostenere che sarà un congresso di figurine, perché con la candidatura sul campo di Matteo Renzi, con la candidatura di Michele Emiliano, con tutte le altre candidature che potranno uscire fuori nei prossimi giorni, secondo me il congresso può diventare veramente un momento in cui il partito dice ok, fermiamoci, discutiamo di qual è la linea, dopodiché però andiamo avanti sostenendo quella linea, perché noi le sfide dobbiamo affrontare da qua ai prossimi giorni saranno importantissime. Volevo credervi anche una cosa, la domanda è un po' questa, perché anche questa mattina Roberto Speranza, insomma parlando sulla 7, ha sostanzialmente detto che poi quella, come è stata definita, fusione a freddo con cui è nato il Partito Democratico, ovvero quella tra il Margherita e i DS, sostanzialmente poi nella leadership di Matteo Renzi si è in qualche modo sviluppato così come era stato immaginato il Partito Democratico, però con quei crispi per cui si è spostato più al centro e si è instaurato su un modello diverso da quello che era con i segretari provenienti dai DS. C'è questa dicotomia ancora oggi, la domanda la faccio a Giulia Fossi, ed è effettivamente perché una volta cambiata la leadership in qualche modo non c'è più una leggemonia dei DS e quindi in questo senso c'è un'uscita anche per questo, secondo lei? No, il problema non è assolutamente il fatto che non vi sia più un'egemonia degli ex DS. Il progetto del Partito Democratico era un progetto ambizioso. Io in questi giorni mi sono riletta in parte quella che era la Carta dei Valori presentata all'inizio del 2008. Nelle premesse l'idea era quella di tenere insieme delle tradizioni democratiche importanti per questo Paese, con tutti i valori che queste tradizioni si portavano dietro e in un contesto appunto di discussione, di dialogo, di pluralismo, quindi un campo dove vi poteva essere il confronto. La questione al di là delle egemonie è che piano piano negli anni si è assistito a un lento logoramento del Partito Democratico, dove in realtà più che dei contenuti e degli aspetti valoriali e culturali, perché il Partito Democratico nasceva sì da una vocazione maggioritaria, ma era anche una sfida culturale importante per questo Paese e ovviamente a tutto questo si è sostituito la semplice conta. Nel momento in cui si sostituisce piano piano la sola conta, poi viene meno tutto l'aspetto di dialogo e di un contesto di riferimento in cui appunto si può parlare una lingua simile, perché comunque si condividono le regole, si condividono i metodi, si condivide l'idea del confronto e dell'ascolto. Diciamo che più che la fine di una certa egemonia è l'imporsi di un metodo che non lascia spazio al confronto, al confronto delle idee e davvero in qualche modo è un costante, è una costante prova di forza, è uno costante schiaffo a chi la pensa, a chi la pensa diversamente e credo che alla fine sia questo l'elemento fondamentale che poi piano piano, infatti alcuni non parlano di scissione ma di lento logoramento che non poteva altro che sfociare in quello che sta accadendo, in quello che sta accadendo in questi giorni. Serini? Ma io non credo che si possa ancora parlare di separazione fra il mondo degli ex DS e il mondo che era della Margherita, banalmente anche per il fatto che molte persone che si stanno impegnando negli ultimi anni nel Partito Demorato, tra cui mi ci metto molto ovviamente anche io, non hanno mai fatto politica prima per questioni anagrafiche e non si sentono di appartenere a nessun'altra comunità se non quella del Partito Democratico, ma poi soprattutto perché, e questo lo dico anche memori del congresso del 2013 che ha visto vincere Renzi, abbiamo assistito ad uno scontro e qui mi permetto di dissentire, nel senso che è stato uno scontro sui temi, è stato uno scontro su visioni di centrosinistra, tant'è che Matteo Renzi non ha ricevuto sostegni soltanto dalla parte che è riconducibile all'ex Margherita, anche perché banalmente altrimenti non avrebbe vinto col 68%, e Gianni Cooper lo stesso, ma anche Civati, hanno proposto visioni di centrosinistra e visioni anche di paese che sono diverse, ma che non sono esattamente la fotocopia di quelle che erano le proposte dei DS. Mi sembra, e qui chiudo, che negli ultimi periodi si sia confuso l'idea di stare in un partito e di avere un partito a disposizione che sia plurale, aperto a tutti, con la possibilità di mettere dei veti sulla linea politica riconoscibile del partito stesso. Io faccio l'esempio sulla riforma costituzionale, che ormai è capitolo chiuso, ma ci aiuta a capire quello che sta succedendo. Matteo Renzi aveva già proposto il cuore della riforma costituzionale nelle primarie del 2012 e nel congresso del 2013. Primarie vinte, nonostante questo, quando poi si è trattato di arrivare negli organismi dirigenti del partito, tra cui la direzione nazionale, e fare quelle modifiche necessarie a far votare la riforma costituzionale anche a una parte che non sosteneva Matteo Renzi al tempo delle primarie, si è provveduto a fare delle modifiche. Questo che vuol dire? Vuol dire che in realtà nel partito, sul Jobs Act, sulla legge elettorale, ci sono stati dei punti d'incontro. Naturalmente, questo è ovvio, la linea politica del partito, se è una linea politica che ha ricevuto così tanto consenso, non può essere snaturata perché diventi la linea politica di quelli che non la sostenevano. Banalmente si è cercato di trovare un compromesso, ma poi è chiaro che non si può snaturare il progetto politico del Partito Democratico che è uscito dalle primarie. E questo spero che lo capisca anche chi in questo momento si candida al congresso del partito, perché io sono molto felice che Emiliano sia rimasto e sono felice se altri che non condividono la strategia di Renzi si candideranno. Il punto però deve essere chiaro, cioè noi discutiamo nel merito, anche in maniera molto accesa, dopodiché chi vince deve avere la possibilità di avere un partito unito che vada avanti verso le prossime sfide, anche perché, e qui chiudo, ascoltare alcuni esponenti della cosiddetta minoranza, sostenere che la scissione o la fuoriuscita, come io preferisco chiamarla, sia un modo per arginare le destre in questo Paese mi fa sorridere, perché l'unico modo per arginare il centrodestra o il Movimento 5 Stelle, che per me è nuova destra in questo Paese, è avere un partito democratico unito e forte. Forse su questo effettivamente sembra difficile. Posso rispondere? Partendo dalla fine, sull'arginare le destre, in realtà questa che io penso sia una scissione avviene in un momento in cui molto probabilmente si andrà al voto con il proporzionale e quindi è ovvio che il contesto cambia e che probabilmente esiste davvero uno spazio politico a sinistra, esistono degli elettori che un tempo votavano a sinistra e a cui ora il Partito Democratico non parla più. Non parla più non solo per i metodi ma anche per il contenuto di determinate politiche degli ultimi anni. E quindi molto probabilmente si può arginare le nuove destre o quelle che forse impropriamente viene, diciamo il Movimento 5 Stelle, provando a ricominciare a parlare a quelle persone, le famose periferie di cui ci siamo riempiti la bocca con il crollo del Partito Democratico alle amministrative. Ecco, il Partito Democratico non prende voti in periferia e questo credo sia un problema, forse era un problema da dover trattare in maniera più approfondita all'interno del partito perché si vincono i congressi ma si fanno anche degli errori, chi guida deve tenere unita una comunità e per cui su tanti aspetti in qualche modo il confronto diventa un aspetto fondamentale e non è né cedere al ricatto né snasurare l'investitura popolare, l'investitura popolare delle primarie. E su questo poi la riforma costituzionale nella Carta dei Valori del Partito Democratico, fra uno dei punti, vi era quella appunto di mai più riforme costituzionali con prove di forza della maggioranza, perché la Costituzione deve sustelare tutti e in qualche modo invece siamo arrivati a un referendum, quello del 4 dicembre, con una grande prova di forza della maggioranza del Partito Democratico. E poi infatti si è visto come è andata a finire. Ecco, cioè la chiusura sociale, e questo non significa snasurare le idee e i progetti di fondo, però la chiusura sociale su aspetti anche fondamentali e che rientrano in quelli che sono i valori fondanti del Partito Democratico, poi piano piano ha portato probabilmente anche una parte di quelli che erano elettori del Partito Democratico a non riconoscersi più. Questo poi non significa che magari il Partito Democratico non possa acquistare altri elettori da altre parti, però credo che per i fondatori e per chi comunque crede in determinati valori e continua a crederci, il voler rappresentare determinati bisogni innanzitutto sia in qualche modo un dovere, ecco, se lo senta come un dovere e questi aspetti credo non possano essere solo quantificati come risultato dei congressi o come risultato delle elezioni. Io credo che appunto se il Partito Democratico non discute di una sconfitta forte alle amministrative nelle periferie fra i giovani, lo stesso vale per la riforma costituzionale, per l'analisi, credo sia un problema perché non si può ridurre 40-60%, è utile capire anche chi ci vota e quali sono i bisogni delle persone che ci votano e soprattutto chi non vota. Su questo però è importante fare un po' di analisi storica per quelli che sono i risultati del Partito Democratico perché l'unico momento elettorale in cui il PD a livello nazionale ha preso i voti di tutte le categorie sociali, di tutte le fasce sociali e in tutti più o meno i luoghi, le periferie anche non soltanto geografiche ma esistenziali di cui noi parliamo spesso è stato alle europee del 2014. Questo forse ci dovrebbe sempre dal punto di vista dei contenuti fare interrogare sul fatto che una risposta identitaria di sinistra come è stata se vogliamo anche quella di Bersani nel 2013 quando tutti lo abbiamo sostenuto alle elezioni nazionali non porta necessariamente a parlare con quelle persone che in questo momento invece si sentono molto più rappresentate dal Movimento 5 Stelle. Quindi su questo anche in ottima congressuale forse è bene ragionare. Sì, diciamo velocissima, dalle europee alle amministrative nel frattempo ci sono stati gli anni di governo Renzi. Quindi probabilmente una valutazione su certe politiche, penso alla riforma della buona scuola, penso al Jobs Act, penso all'abolizione dell'immutasi per la prima casa senza differenze di reddito o di rendita catastale, probabilmente sono tutti aspetti su cui occorre interrogarsi. Quello era lo slancio iniziale, nel frattempo ci sono stati anni di governo, aspetti politiche fatte bene ma anche tante politiche soprattutto economiche e legate al lavoro e al welfare che comunque non hanno dati risultati probabilmente attesi. E su questo credo che forse il Partito Democratico, arrivato a questo punto, dovrebbe interrogarsi in maniera anche radicale per capire davvero qual è la propria funzione nel panorama politico e sociale italiano. La domanda è questa, però volevo farle una cosa, siamo in chiusura della prima parte, poi riprendiamo il discorso anche dopo e arriviamo anche in Toscana, però la domanda è un po' questa, io immagino e ho sentito anche diverse persone, elettori del Partito Democratico, che hanno fatto un po' di fatica a capire la minoranza dalla maggioranza nel Partito Democratico, adesso capire che Bersani è della minoranza ma esce e Cuperlo è della minoranza ma rimane, fanno piuttosto fatica. La domanda semplice è perché non rimangono dentro il sfido, Renzi, no, questa è un po' la domanda. Ma è una domanda che questi giorni mi sto ponendo, anch'io con molto travaglio, cioè l'idea che comunque il Partito Democratico possa essere anche contendibile, forse dipende anche dalla capacità che ha quella che si definisce minoranza, comunque quella parte che è portatrice più di determinati valori rispetto a un'altra parte che è portatrice di altri tipi e forse anche di un'altra impostazione, ecco, perché quella parte non riesce a fare sintesi intorno a una proposta? Questa è una domanda, è una domanda che me la pongo anch'io e capisco benissimo anche chi in qualche modo, perché in parte mi ci metto anch'io in qualche modo riesca a comprendere male in questa fase in cui, ora detto francamente, Renzi sembra anche più debole, perché tutta questa necessità di velocizzare i tempi del congresso è dettata dal fatto che comunque in questo momento c'è una perdita di consenso, quindi in un momento in cui in teoria è il momento migliore per sfidarlo perché… Lasciamo il punto interrogativo su questo, in un minuto Pialini volevo chiedere una cosa, perché c'è anche chi all'interno invece del Partito Democratico pensa che sostanzialmente questa fuoriuscita o questa cessione, come la volete chiamare, in sostanza darà poi il via a quello che è il vero Partito Democratico, lo chiamano qualcuno, qualcuno dice sostanzialmente che questi dieci anni sono stato un brodo più rimordiale, qualcosa su cui si è sviluppato il Partito Democratico che da adesso avrà meno l'accio e l'acciuolo e potrà essere, diciamo, andare più dritto sulle proprie posizioni. Come la vede questa? Ma è una domanda importante, io sinceramente credo che il Partito Democratico stesse meglio con dentro anche una parte che io, le cui politiche e le cui proposte io non condivido, piuttosto che invece avere una parte in uscita, io di questo sono abbastanza convinto. Certo è che bisogna che chi sta pensando di uscire deve interrogarsi poi su quello che realmente è il Partito Democratico, in questo senso effettivamente il dubbio viene, cioè viene il dubbio che alcune persone non abbiano compreso che il Partito Democratico non è la somma di due tradizioni gloriose, ma è la volontà di costruire un percorso nuovo. Però ecco, su questo io ci andrei cauto, nel senso che, e qui sono d'accordo e comprendo anche il travaglio che persone che all'interno del PD non la pensano come me stanno avendo, e cioè che vedere una parte del partito che fa questa, una parte io direi piccola del partito, che fa questa svolta massimalista va contro l'idea stessa di PD, in questo senso forse la domanda che uno si deve porre a questo punto è, non l'avevano capito fin dall'inizio cosa voleva dire stare nel Partito Democratico? A questo non so rispondere. A questo vediamo le cose, però subito dopo, 5 minuti, ma ritorniamo subito in studio, la domanda rimane a legge nell'aria, insomma, tenetela un attimo lì e la risposta tra pochissimo, 5 minuti di informazione e poi torniamo in studio. Ben tornati in studio, allora stiamo parlando di Partito Democratico e Marco Piorini prima ha lanciato una domanda che è rimasta un attimo nell'aria, la vuole ripetere così poi facciamo rispondere i fossi. Certo, no, mi chiedevo se quegli esponenti della minoranza che escano non si siano chiesti cosa significa realmente stare in un Partito Democratico, perché portare avanti una fuoriuscita di carattere massimalista fa venire in mente che loro veramente non abbiano compreso che la natura del PD non è la somma di due parti, ma è la costruzione di qualcosa di nuovo. Le risposte identitarie sono di per sé contrari a quello che è il senso comune del Partito Democratico e mi ci metto anch'io dentro naturalmente. Fosse? Dunque, direi che innanzitutto non è giusto utilizzare l'aggettivo massimalista e neanche il fatto che chi fuoriesce in qualche modo abbia l'idea di creare fuori, almeno da quanto si legge nelle interviste, un partito, un movimento identitario. La questione è, e credo che occorra anche maggiore rispetto per chi sta uscendo, perché appunto chi sta uscendo in qualche modo sono i fondatori, parte dei fondatori del Partito Democratico. Ora, io non so se loro sapessero fino in fondo quello che avrebbe significato il Partito Democratico. Sicuramente hanno condiviso quello che era uno dei progetti più ambiziosi che la sinistra italiana ha fatto negli ultimi 20 anni. e nel condividerlo ovviamente, non per essere ripetitiva, però nello statuto, nella carta dei valori, comunque c'erano elementi che certo non erano elementi identitari, ma che guardavano a un partito plurale, che si richiamava a quelle tradizioni, ma non come miti, ma le tradizioni legate all'attenzione per la persona, per il welfare, per l'equità, per la cultura, per l'istruzione. Tradizioni che comunque in un momento in cui il berlusconismo era forte in questo paese, rilanciavano anche tutto un tema legato alla moralità, alla laicità dello Stato, tanti aspetti di cui questo paese si era dimenticato. Io credo però che appunto il progetto del Partito Democratico, finito Berlusconi, peraltro non penso sia finito, bisognerà vedere ora alle prossime elezioni con il proporzionale, è stato dato per morto tante volte e poi morto non lo è mai stato. Ecco, bisogna vedere se questa funzione di un partito del genere si sia esaurita. Io credo non si sia esaurita e che il progetto fosse più l'ingimirante e ambizioso. Certo, se si arena nella concezione di un partito personale, un partito che molti chiamano il partito di Renzi, di un partito che non discute, che non ha una progettualità, una lungimiranza, che non discute dei propri valori, ovviamente diventa difficile. Un partito anche che non riconosce le sedi di discussione, perché quello che si è assistito in questi giorni, comunque la si veda, credo sia veramente una ferita per tanti iscritti militanti che hanno contribuito a fondare questo partito. Cioè le scissioni in televisione ieri, il segretario uscente che decide di andare in California anziché stare a Roma e partecipare alla direzione. Credo siano tutti aspetti che feriscono e che comunque hanno origine però con un metodo che in qualche modo ha introdotto Renzi all'interno di questa comunità. Un minuto se volete rispondere a questo, Pierini, velocissimo. Sì, velocissimo. Non c'è mai stato un momento nelle varie segreterie che si sono succedute dalla nascita del PD in cui si sono fatte così tante direzioni nazionali, così tante assemblee come durante la segreteria Renzi. E questo è un tema che però quando si parla di luoghi di discussione bisogna porsi, perché io ero presente all'Assemblea nazionale e sinceramente sono rimasto ferito dal fatto che Pierluigi Bersani non si è neanche preso la briga di scendere le scale per stare in Assemblea nazionale che è il luogo supremo, perché poi è l'Assemblea nazionale che decade e con essa tutto il resto. Quindi su il rispetto dei luoghi di discussione forse è vero anche che uno che è già candidato alla segreteria e che non è più segretario per non, visto che la sua presenza evidentemente è vista anche come un elemento divisivo da una parte del PD stesso, magari la sua assenza poteva essere un elemento distensivo nel dibattito in direzione nazionale. Questa è una domanda che mi faccio, naturalmente evidentemente non è presa così. Ho il sospetto che se lui fosse andato in direzione il problema si sarebbe posto all'esatto opposto. Non lo so, comunque in Assemblea non c'è stata, ci sono state fatte varie proposte da altri esponenti, non c'è stata una risposta finale. E non era più segretario. Vabbè, mi sembra un attaccarsi un po' agli specchi. Vi voglio fermare su questo, tanto quello che è stato è stato, ormai sarebbe piangere sull'attiversato, invece c'è qualcosa che sta divenendo, anche perché noi oggi titoliamo chi resta e chi va, perché mentre Errani oggi, ed è il nome tra virgolette illustre di oggi, che decide di lasciare il PD, o almeno questo è l'annuncio che ha fatto di seguire Vini Bersani, D'Alema Speranza e Rossi, proprio Enrico Rossi guida una regione in cui è stato eletto governatore della regione toscana e in cui la maggioranza, la larga maggioranza dei consiglieri del PD non hanno nessuna intenzione di lasciare il PD fossi. Che cosa succederà? Dunque, in realtà in parte a questa domanda hanno già risposto sia Rossi sia il segretario regionale del PD, Rossi continuerà a occuparsi della regione toscana, è in approvazione il piano di sviluppo regionale, credo che questi siano gli aspetti fondamentali, che poi ci sia un elemento davvero di responsabilità importante, perché ovviamente nel caso in cui oggi cadesse questa giunta, credo che difficilmente la regione toscana, nel caso in cui cada questa giunta, la regione toscana sicuramente non andrà nuovamente al PD, anche perché già dall'ultima amministrativa, credo che il trend pericoloso dell'avanzata del Movimento 5 Stelle, non solo, insomma tutta la vicenda della Lega Nord in quelli che erano considerati fortini rossi, insomma forse non ci abbiamo riflettuto abbastanza anche su questi aspetti. Io spero che... E' un'altra valutata la decisione di Rossi, perché insomma qui alla fine in Toscana tra virgolette è stato un po' forse il luogo principe per quella sintesi che si è riusciti a fare, addirittura sul referendum costituzionale, insomma vedendo come oggi, nessuno potrebbe immaginare se uno si svegliasse oggi che il 4 dicembre hanno votato uguale Rossi e Renzi. Che cosa è successo e soprattutto come mai è venuta meno quella sintesi sostanzialmente, anche qui in Toscana? Quello che sia successo nella festa di Rossi non lo so, nel senso ovvio, io non riuscivo a comprendere infatti le ragioni del suo sì al referendum del 4 dicembre, comunque evidentemente è stato per responsabilità verso il partito democratico. Ovviamente le pressioni a cui è stato sottoposto il governatore della Toscana, anche insomma a partire dal segretario regionale in questi ultimi mesi sono state pesanti, insomma bastava aprire Facebook per rendersi conto che quanto ci fosse un confronto animato, per usare un eufemismo animato, fra il partito toscano e il governatore. Quindi credo che in realtà lui con la sua associazione da tempo stesse in qualche modo preparando qualcosa di alternativo. Sì, fino a poco tempo fa avrebbe sfidato Renzi. Di alternativo. Ecco, è questo che poi diciamo i tempi, la scelta della scissione è venuta poi in realtà molto più velocemente di quanto chiunque potesse pensare, perché in realtà anche una serie di aree che si stavano strutturando, ma aree non intese come camminetti, ma anche aree di condivisione di determinate idee, si stavano strutturando dopo il 4 dicembre, dopo il risultato del 4 dicembre, comunque io l'avevo sempre lette in un contesto all'interno del Partito Democratico, in preparazione del Congresso, ma non in preparazione del Congresso per trovare una leadership, ma più che altro in preparazione del Congresso per trovare una piattaforma condivisa, politica, programmatica su cui confrontarsi. Pierini, su questo, Rossi. La scelta del governatore Rossi mi ha lasciato molto perplesso, in realtà è qualche mese che io sono fortemente perplesso del vigoroso cambiamento di direzione che ha voluto dare alla propria impostazione del governatore della regione toscana. Credo che lui abbia francamente sbagliato a uscire, io questo lo dico perché il percorso che noi abbiamo fatto dal 2015 ad oggi di condivisione di determinate scelte per il governo della regione toscana, tra l'altro con un Enrico Rossi che, ricordiamocelo, finché non ha avuto aspirazioni nazionali, ha anche condiviso per una parte l'indirizzo politico, ora questa cosa poi si è persa, ma ha condiviso per buona parte anche l'indirizzo politico che ha dato lo stesso Matteo Renzi quando era Presidente del Consiglio. C'è stata questa improvvisa voglia da parte di Enrico Rossi di avere un ruolo nazionale e negli ultimi tempi, devo dire in maniera abbastanza rocambolesca, ha scelto di uscire lasciando anche tutta una parte della sua area, diciamo anche in Toscana, priva di un riferimento politico poi, perché naturalmente io di questo sono convinto, perché se vuoi trasformare in azioni di governo le tue posizioni, il modo giusto a sinistra è stare nel PD e contendere la leadership e il programma politico a chi hai di fronte, non uscire. La scelta di Rossi mi lascia francamente perplesso, credo che anche su questo il PD regionale e in questo credo che il segretario Parrini abbia ragione e debba interrogarsi. Allora, siamo andati in chiusura ma in un paio di minuti, un minuto a testa, volevo capire anche qualche cosa succederà nei territori, insomma se il Partito Democratico, almeno quello in cui state voi in questo momento, è compatto nei vostri territori rispettivamente, Pierini e poi Rossi. Il Partito Democratico francamente sì, è più o meno compatto e anzi devo dire che, almeno per quanto riguarda il mio territorio, io sono nel PD dell'Empollese Valdelsa, c'è stata fin da subito anche da parte dei segretari delle unioni comunali, degli undici comuni che costituiscono la nostra federazione, una presa di posizione netta contro questa scissione nella tempistica poco ragionevole e soprattutto a favore di un congresso vero, un congresso in cui si discuta dei problemi del paese però, non delle questioni identitarie, chi è più di sinistra o se Matteo Renzi, come ha detto qualcuno, debba poter stare a pieno titolo nel centro-sinistra. Quindi, sui territori, io francamente non registro tutta questa voglia di scissione, anche tra chi non la pensa come me, e questa voglia di buttarsi in un'avventura dagli esiti piuttosto incerti. Fossi? Ma l'obiettivo di ricominciare a parlare dei problemi del paese credo sia di tutti e anche che nessuno abbia voglia in qualche modo di continuare più di tanto a guardarsi l'ombelico o avere atteggiamenti schizofrenici. Quello sul territorio è una risposta abbastanza difficile da dare, perché come il Partito Democratico negli ultimi anni ha subito un calo di scritti spaventoso, così anche probabilmente il collega proviene da un territorio fortunato, però io mi sento di dire che... La belle polese è effettivamente piuttosto fortunata. Siamo fortunata. Sul mio territorio, ecco, di confronti reali, per ritornare anche al discorso di prima, dove lui citava il numero di direzioni e di assemblee, poi bisogna vedere quanto queste riunioni siano reali e siano ricche di contenuto o non siano come quelle che abbiamo visto dopo il 4 dicembre. Detto questo, appunto, su quello che accadrà sul mio territorio, parlo soprattutto del Mugello, io non saprei dire, perché ultimamente le poche riunioni e assemblee che vengono convocate per questioni locali e, insomma, io penso siano mesi che non discuso di politica nazionale sul territorio. No, 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 non è una questione di vento scissionista, è proprio una questione di morte del partito sul territorio, ecco, per non lasciare dubbi. Ultimissima cosa, voglio chiedervi, dal 10 al 12 marcio se c'è il Lingotto 2, tra virgolette, di Matteo Renzi, idee programmate e tutto il resto, ci andrete, Pierini e Poi Tossi? Convintamente sì, anche perché apprezzo molto la scelta del Lingotto come luogo di ripartenza. Dopo dieci anni il Lingotto 2? Lo vedrò da lontano. Va bene, torneremo a parlare di questo, ovviamente, intanto io ringrazio Marco Pierini per essere stato con noi, grazie a Giulia Fossi, ovviamente, e bentornata. Insomma, quando tornerà a dirci, se poi andrà un Lingotto 2, glielo richiederemo di sicuro. Intanto grazie per averci seguito anche da casa, Telegram termina qui, ci vediamo domani, buona serata a tutti. Grazie a tutti.